Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha presentato in prima commissione il rapporto sugli affari europei. David Mariotti Bianchi La Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato in prima commissione presieduta da Andrea Smacchi il rapporto sugli affari europei. Questo atto, insieme al programma di lavoro della Commissione per il 2018 e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti dell'Unione Europea, costituirà la base della Sessione Europea 2018 dell'Assemblea Legislativa. Tra Fondo Sociale Europeo, Programma di Sviluppo Rurale e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, le risorse complessivamente ammontano ad 1 miliardo 693 milioni di euro per il settennio 2014-2020. A questi fondi vanno aggiunti quelli legati alla riprogrammazione per gli eventi sismici, 56 milioni di euro del FESR e 52 del PSR. Illustrando il rapporto sugli affari europei 2017 ai commissari, la Presidente Marini ha ricordato come l'Umbria sia tra le prime regioni a sperimentare il piano di rafforzamento amministrativo per il potenziamento delle strutture regionali competenti per l'attuazione dei fondi comunitari. Altro aspetto da ricordare è la dimensione territoriale. Infatti sono 5 le città individuate per i programmi di sviluppo urbano, Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Tre le aree interne della regione, mentre per l'investimento territoriale integrato è stato individuato il bacino del Trasimeno. Nel 2017 si è iniziato ad attuare questi piani con l'assegnazione delle risorse alle amministrazioni. Entrando nello specifico dello stato di attuazione dei programmi operativi, la Presidente ha sottolineato come il piano di sviluppo rurale, che per l'Umbria rappresenta il cuore della programmazione con oltre 900 milioni di euro, sta dando le migliori performance per gestione e attuazione. Per il FESR, la cui dotazione è di oltre 400 milioni di euro, c'è qualche preoccupazione sull'attuazione delle misure territoriali. Il Fondo Sociale Europeo, invece, procede abbastanza speditamente con una dotazione finanziaria complessiva di 237 milioni di euro. E sempre in prima commissione, l'assessore Antonio Bartolini ha illustrato la proposta della Giunta per chiedere al Governo maggiore autonomia per la Regione Umbria il servizio. Nella prima commissione dell'Assemblea legislativa presieduta da Andrea Smacchi, l'assessore Antonio Bartolini ha illustrato la proposta di risoluzione della Giunta regionale per l'attivazione delle procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia. L'assessore Bartolini ha parlato di un atto tra i più significativi di questa legislatura con il quale si inizia un percorso per avviare una fase di trattative negoziato con il Governo nazionale, al fine di chiedere maggiore autonomia su temi sui quali la nostra Regione può portare un valore aggiunto. Questo percorso verrà fatto cercando di condurre il negoziato insieme alle Regioni confinanti in modo da poter avviare politiche di filiera comuni e verrà chiesta autonomia su materie qualificanti. Umbria verde, la grande bellezza con la tutela e la valorizzazione del paesaggio dei beni culturali, la leva del sapere con il sistema della formazione e istruzione che è una vera e propria eccellenza Umbra, la salute campo nel quale da diversi anni l'Umbria è inserita stabilmente tra le Regioni benchmark e dai conti a posto. Protezione civile, prevenzione sismica, rigenerazione urbana e infrastrutture, tema particolarmente attuale dove siamo un punto di riferimento per le soluzioni sperimentate nella ricostruzione fin dal 1997. A queste materie, insieme alla Regione Marche, verrà aggiunta il tema dell'autonomia finanziaria. Ovviamente l'autonomia su ognuna di queste tematiche può essere chiesta tanto dal punto di vista legislativo quanto da quello amministrativo. Audizione in seconda commissione del capo compartimento ANAS, Raffaele Celia, sullo stato di alcune importanti arterie stradali dell'Umbria. Vediamo. Esiti del sopralluogo sul tratto della strada statale 79 bis Eterni-Rieti, completamento dell'AE78, apertura della Galleria della Guinza, stato di dissesto del tratto umbro dell'AE45, sono alcuni degli argomenti al centro dell'audizione della seconda commissione con Raffaele Celia, capo compartimento ANAS, Toscana Umbria e Marche. Durante l'incontro, su sollecitazione dei consiglieri regionali presenti, sono state poi affrontate anche le problematiche viarie che interessano una larga parte del territorio umbro. Il capo compartimento ha premesso che ANAS ha ricevuto indicazioni affinché venga individuato come prioritario il completamento delle infrastrutture già avviate rispetto alla progettazione di quelle nuove. Ha poi delineato il quadro dei collegamenti, il cui fulcro è la città di Terni. La Terni di Civitavecchia, nei pressi di Monte Romano, avrebbe subito dei ritardi per questioni di impatto ambientale e paesaggistico. Mancano soltanto 6 chilometri per determinare gli interventi. La Terni Rieti, completata al 95%, ha prima subito rallentamenti per il fallimento di una impresa e poi dal cedimento nei pressi del viadotto San Carlo, che è stato però recentemente risolto attraverso procedure urgenti. Con procedure ordinarie si procederà invece al ripristino completo anche delle banchine laterali. Sul viadotto Torano non potrà essere installato uno spartitraffico perché sarebbe necessario l'allargamento del viadotto stesso. Per quanto riguarda la galleria Valnerina, è stata chiusa alla fine di febbraio per cedimenti del controsoffitto. I successivi accertamenti, ha detto Celia, hanno permesso di stabilire che non ci sono problemi con i materiali utilizzati, quanto con i lavori svolti e con le resine impiegate per ancorare il controsoffitto alla volta della galleria, che potrebbe essere comunque riaperta a fine giugno. In merito alla E78 da Grosseto a Siena, per il completamento mancano due lotti da appaltare entro l'anno. La galleria della Guinza, ha spiegato Celia, è stata terminata nel 1996, quando le normative europee di sicurezza erano diverse. Oggi, per avere il doppio senso di marcia, servono dotazioni di ventilazione e monitoraggio, cartellonistiche e vie di fuga. L'apertura sarà quindi parziale e forse per i soli veicoli leggeri oppure a fasce orarie e con transito al senso alternato di veicoli leggeri e pesanti. Sono disponibili 60 milioni e il bando per l'affidamento dei lavori verrà pubblicato entro il 2018. Il collegamento Guinza-Selcilama, E45, dispone già di 100 milioni di euro dopo l'abbandono del progetto delle quattro corsie su tutto l'itinerario. Nel giro di pochi anni dovrebbe aprire al traffico il collegamento con l'Ai45. L'antropizzazione della zona e la natura del terreno, ha concluso il capo compartimento Anas e Celia, consiglierebbe di adeguare la strada provinciale che già esiste. Avviata in terza commissione l'istruttoria sulla proposta di legge di Leonelli del Partito Democratico, circa le disposizioni in materia di disturbo di deficit di attenzione e iperattività, ci ne parla Paolo Giovagnoni. Alla riunione di commissione sulla proposta di legge del consigliere Giacomo Leonelli inerente il problema del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, in sigla ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ha partecipato anche l'assessore regionale alla salute Luca Barberini, il quale pur riconoscendo la validità del tema su cui si vuole normare nonché la necessità di dare risposte adeguate alle famiglie che hanno evidenziato le problematiche dei loro figli, ritiene però più opportuno ricomprendere la normativa nel nuovo piano sanitario regionale e invece inopportuna una legge per una sola problematica che va ad intervenire direttamente prevedendo strutture specifiche sull'organizzazione del servizio sanitario regionale. Da parte sua il consigliere Leonelli ha proposto che l'istruttoria sul testo di legge possa intanto cominciare in attesa di conoscere i punti in comune con i contenuti del nuovo piano sanitario, dando così una risposta almeno entro l'anno solare alle richieste di famiglie che in questo momento sostengono costi molto alti, 800-900 euro al mese, senza avere alcun appiglio normativo specifico, ha sottolineato Leonelli. La proposta di legge prevede che il centro servizi apposito sia esteso anche all'età adulta e non solo a quella evolutiva. Via libera della terza commissione ad una proposta di risoluzione contenente orientamenti di indirizzo generale per la redazione del nuovo piano sanitario regionale 2018-2020. Paolo Giovagnoni. Nella proposta di risoluzione stilata dalla commissione si chiede una riorganizzazione del servizio sanitario regionale in considerazione dei mutati fa bisogni di salute dei cittadini e in considerazione della diminuzione delle risorse destinate alle regioni. Si propone che la loro attribuzione sia sempre più connessa a obiettivi predefiniti e verificabili e alla valutazione delle performance e della qualità dei servizi erogati. Ciò comporta il coinvolgimento e un ruolo attivo partecipativo da parte degli organismi deputati a rappresentare gli operatori della sanità in seno alle amministrazioni aziendali e l'introduzione di forme di rilevamento della soddisfazione degli utenti. Prima criticità da affrontare la riduzione delle liste di attesa. Punti fondamentali della proposta sono l'integrazione dei servizi su scala regionale con il completamento della rete digitale per interconnettere tutti i servizi, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La evoluzione delle aggregazioni territoriali che hanno carattere organizzativo verso unità complesse di cure primarie che abbiano funzione di erogazione dei servizi, quindi anche l'ottimizzazione del rapporto con l'università che mantiene il ruolo insostituibile per la formazione, l'aggiornamento e la ricerca ma deve integrarsi compiutamente nell'organizzazione sanitaria regionale favorendo un interscambio virtuoso delle professionalità, quindi anche omogeneità su tutto il territorio regionale delle prestazioni da erogare per i livelli minimi di assistenza e un potenziamento della prevenzione sia nel controllo della filiera agroalimentare e nelle attività veterinarie, sia nell'educazione, a cominciare dalla scuola, di stili di vita sani per ridurre le patologie croniche di cui soffrono molti anziani e di conseguenza anche i costi che gravano sul bilancio regionale. La proposta della Commissione ora passerà all'esame dell'Aula. Nell'ultima seduta consigliare del 2 maggio scorso l'Aula ha discusso e preso atto della relazione finale che ha concluso i lavori della Commissione d'inchiesta circa la gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla regione e individuazione delle cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità e di altre imprese della mobilità operanti in Umbria presieduta da Carla Casciari. Nel documento conclusivo sono stati ripercorsi tutti i passaggi che hanno determinato e accompagnato la Costituzione e l'attività della società Umbria Mobilità, rapporti di Umbria Mobilità con Roma TPL, le criticità al momento della fusione, il danno da esposizione all'amianto, situazione dell'ex FCU e contenzioso fiscale, il lodo COGEMAR, il piano di ristrutturazione aziendale. E sempre nella stessa seduta assembleare, è stata approvata con voto unanime una mozione unitaria che impegna la Giunta regionale a riattivare, anche per l'anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del lago Trasimeno, prevedendo per tale fine, se necessario, congrue risorse finanziarie. L'assessore Luca Barberini, intervenendo in aula, ha assicurato che gli assessorati alla salute e all'ambiente hanno già individuato le risorse necessarie per garantire l'intervento e quindi i servizi necessari, anche per l'anno in corso. La terza Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali ha deciso di inserire la proposta legislativa inerente ai bisogni educativi speciali, formulata dai consiglieri Casciari, Leonelli e Solinas, fra le modifiche da apportare a una legge già in vigore, quella sul diritto allo studio, anziché creare un nuovo testo di legge che, pur se in contatto con la sanità e il sociale, afferisce soprattutto alla sfera dell'istruzione, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dell'assessorato all'istruzione. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.